Grazie a tutti i giocatori, grazie al staff che abbiamo lavorato bene, veramente benissimo e oggi siamo in terzo posto, vuol dire che abbiamo fatto una stagione che nessuno si aspettava La Lega Pro di recente è stata ospite nella sede dell'FC Sutirol, ha voluto capire il modello societario, la struttura societaria dell'FC Sutirol ha fatto i complimenti, tanto che ha detto porteremo a modello il Sutirol alle altre società di Lega Pro per come sa razionalizzare la sua struttura, come sa ottimizzare le sue risorse Insomma, dei complimenti sinceri e soprattutto di sostanza Ecco, questo per noi è un gran complimento perché quando arrivano i rappresentanti della C1 vuol dire che siamo sulla strada giusta, vuol dire che abbiamo un progetto davanti che vogliamo, siamo passo per passo, che andiamo verso in alto e questo gli dà a noi ragione che abbiamo lavorato fino adesso in un certo modo che penso che i frutti arrivano piano piano Se ti dico serie B, la prima cosa che mi rispondi qual è? La serie B, veramente, devo dire, è sempre una cosa che quando si fa, si lavora si cerca di andare sempre in più alto, chiaro, siamo vicini, vediamo Hans Graff che ha riconfermato la propria partecipazione sostanziosa nell'FC Sutirol anche per la prossima stagione nella quale sarà nuovamente il main sponsor, segno che credi in questo progetto? No, credo in quel progetto perché sono già dall'inizio che sono lì e che si vede adesso i frutti, si vede quelle che abbiamo fatto in alto alz, si vede che abbiamo fatto calcio veramente con la serietà e adesso si vede pian piano i frutti, adesso si deve andare avanti, non si deve fermare metà strada